Ciao ragazzi, e benvenuti nel mio primo vlog. Fino a ieri, non sapevo nemmeno cosa fosse un vlog, e oggi, invece, sono qui a raccontarvi la mia inutile giornata, proprio come se ve ne fregasse qualcosa. Lo so che non ve ne frega niente, ma dato che avete premuto il video ora lo guardate fino alla fine. In poche parole, ieri, mi sono svegliato, e ho fatto colazione, dopodiché mi sono pure affatto un bel bagno caldo, perché puzzavo di cammello arrostito, data la considerazione del fatto, che in questi giorni, siamo andati spesso al fiume a fare il bagno. Finito di pulire casa, alla buona, questo, mentre si riempiva la vasca, mi sono fatto sto benedetto bagno. Dopodiché, come disse un vecchio saggio, dopo il dovere arriva il piacere. Quindi mi sono rilassato un attimo al telefono. Adesso però, arriva, il bello, perché mentre perdevo il mio preziosissimo tempo di vita, in attività inutili, e improduttive in termini, grezica zxeggiavo, mi sono reso conto del fatto, che ho dei problemi, e ho deciso di affrontare la questione nella maniera più critica. Perciò ho disinstallato Instagram. Dopodiché finalmente, mi sono potuto mettere a lavoro in maniera decente. Lavorando sul mio gioco scaricabile da Play Store a link, https2.com.store.apps.details. ID è uguale con punto Dragomirion.palla di prova. 7 Ho deciso di cominciare ad aggiungere l'opzione di cambiare lingua, perciò mi sono messo lì e, oltre all'italiano sto aggiungendo, inglese, cinese, tradizionale, urdo, russo, arabo, e spagnolo. Ero talmente preso dal lavoro, che mi sono pura dimenticato delle mie esigenze primarie, da povera, creatura biologica, che sono. Quindi alle due e mezza, mentre ero ancora lì che lavoravo, arriva mia sorella, e mi ricorda che forse dovrei mangiare. A quel punto giustamente sopendo il PC, e vado a mangiarmi sto piatto di borsche, per poi, finire un'ultima cosa al PC, e spegnere perché intanto fuori si stava formando una festa, che includeva tutti i barrotti di Garessio, e la RAI. In pratica, la RAI arrivo per riprendere i borghi più belli d'Italia. Io scendo di casa, e non trovando alcuna telecamera decisi, dunque di avventurarmi ai giardini, che sono a due chilometri più a valle per scoprire chi c'è, e cosa c'è di nuovo. Dopo un giro di ispezione, per il borgo, nel quale vidi, anche le macchine pazzesche parcheggiate in esposizione, decisi di partire a piedi per andare giù, arrivato lì trovo gente, mai vista, e brutte compagnie, mai poveracci, con cui giro di solito si trovavano al solito povero bar, per poveri in povere condizioni, malmesse. Perciò andai da loro, a tenerli compagnia, per poi, disperderci ognuno per conto suo, o come direbbe, un giovane in termini, grezzi, ognuno, per i cazzi suoi, tornato al borgo, si mise a piovere, e tutti quelli delativi, si dileguarono manco, fossero gazzelle, inseguite da un ghepardo. Accettata la proposta di andare a Ceva, a gustarci un saporito kebab, incominciai a prepararmi, e alle 8 e 37, dopo aver finito di farmi dei cappelli a leccata di mucca, andai dal cugino, e siamo scesi subito, a recuperare anche la sua tipa, e partire all'avventura, a Ceva ci stava già attendendo il quarto membro del clan. Dopo aver ordinato un kebab, senza cipolle, ci sediamo, e a differenza, dei miei coetanei, io dovetti aspettare mezz'ora, per il kebab, che alla fine, mi arrivo con le cipolle, ma va bene lo stesso perché il kebab, è sempre buono. A fine pranzo, avevo ancora i soldi giusti per la serata, ma da circostanze esterne di fattore riguardante la necessita di aggiungere, benzene al veicolo, trainante del gruppo, arrivai a casa, senza i soldi necessari all'entrata del parco rumoroso, per giovani ubriachi. Perciò dopo esserci goduti, un pezzo di Godzilla in TV, siamo scesi, e abbiamo girato come dei cani in tre, per cercare di scroccare da qualche povero malcapitato una quantità di denaro, sufficiente, all'entrata, arrivai addirittura a chiedere a mia sorella di prestarmi dei soldi. Alla fine però siamo entrati, e abbiamo visto ste, brasiliane ballare sputare fuoco. Alle 4.22 siamo usciti, e ci siamo dileguati ognuno per imposti suoi, c'è chi si portava, la tipa a casa, e c'è chi si portava il tipo a casa, e poi c'ero io, che andavo a fare colazione giù in paese. Comprata sta focaccia, mio cugino da buon samaritano, mi dà un passaggio, e io, vado a casa a mangiare, e poi dormire. Dopo avervi raccontato, sta roba, non so più cosa dirvi. Se vi piacciono i vlog lasciate, o like, o un commento, oppure condividete il video, e io provvederò a sfornare un altro video, così, in un remoto futuro. Grazie per la visione, e niente ciao ciao.